Da Bergamo parte un'iniziativa che coinvolge oltre 200 scuole della provincia per fare memoria e guardare al futuro con fiducia. La scuola in questi lunghi mesi di pandemia non si è mai fermata e merita un dibattito sulla condizione giovanile in Italia. Rivolgiamo un invito a tutte le scuole del Paese affinché, attraverso la visione di questo cortometraggio, dedichino momenti e percorsi per elaborare le emozioni e i vissuti dei loro studenti e trovare nuovo slancio per il futuro.